Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info oare ma entelegco omeni? vedi schermini e io veniti vedi mani io come va, c'è me voglio, asia? si c'è un quà. C'è un quà, e che iashà una cosa? Perchè37, l'aventura di un asiento dei suporti. Inperi le cani. Ellicchau, qui ne vompina. Perchè iashara, n'è? Sì, 小iti. Dernà, ci ho sè? Tocque. Non ci sono fanno molto, ma non ci sono molto. Non ci sono molto. Questa è un po' un po' un po' un po' Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.